C'è chi ama la barca e c'è chi vive in barca tutto l'anno. Questa è casa, qui c'è un letto, cucina, bagno, chitarra, televisione. C'è vivo, non mi manca niente. Certe tasse, sì, io neanche mi ricordo più. L'Imu, Lici, ditemi voi. Stacco questo, stacco gli ormeggi e stacco col mondo. Chi vive da solo e chi in coppia. Noi viviamo qui da un anno e mezzo. Sono amici del fuoco. Ho lasciato il lavoro, ho venduto casa, forno, fornelli e frigorifero. La zona dove viviamo noi è a poppa. Una scelta di vita, una passione, ma i conti si fanno sempre. Posso barca, 300 euro al mese, però poi non hai altre spese. È inclusa tutta la corrente che vuoi, è inclusa l'acqua. C'hai AM, c'hai la luce, c'hai il gas, tutte cose che in casa devi avere. Un taglio di spesa importante. Da qui ci si attacca con la corrente. E c'è chi la decisione di vivere sull'acqua l'ha presa tanto tempo fa. Questa qua è diventata la mia casa, sono 15 anni. Giuseppe ha 65 anni e prima era un imprenditore. Quando sono più riuscito a divertirmi con l'azienda, con la difficoltà che c'è in Italia, ho fatto questo passo. Mi entrano nelle ristrettezze, ma con la soddisfazione di fare qualcosa che mi diverte. E anche per Enzo e Carla la barca è diventata una vera casa. Abbiamo le vivande, abbiamo il forno, segue il movimento del mare. Io ho perso il lavoro, quindi sto qui, faccio la barca linga.